Il numero di flotte aeree commerciali di circa il 50% nei prossimi vent'anni, con un incremento del numero di velivoli per il servizio passeggeri e cargo dalle attuali 25.000 unità alle 50.000 del 2038. In questo contesto, il progetto Stratofly, finanziato dalla Commissione europea nel 2018, si pone lo scopo di investigare le potenzialità del volo commerciale ad alta velocità quale soluzione innovativa al problema del congestionamento dello spazio aereo, riducendo contemporaneamente i tempi di viaggio. Fulcro del progetto è l'attività di definizione preliminare del velivolo MR3, un aereo ipersonico capace di trasportare 300 passeggeri su rotte fino a 18.000 km in meno di tre ore, volando a circa 8.500 km l'ora nella stratosfera a 33.000 m di quota. Per la realizzazione di questo tipo di aeromobile, che si attesta sulle 400 tonnellate al decollo, sarà necessario raggiungere un elevato sviluppo tecnologico nel campo delle strutture, della propulsione e dei sistemi di bordo. La configurazione sistemistica è particolarmente importante, vista la complessità del velivolo e l'elevato livello di integrazione dei diversi impianti. Infatti, per poter raggiungere tali autonomie chilometriche e per contrastare gli elevati carichi termici derivanti dall'attrito con l'aria esterna, il velivolo dovrà utilizzare idrogeno liquido, quale propellente per i motori e fluido refrigerante per le varie utenze. È in fase di studio un sistema capace di sfruttare l'evaporazione dell'idrogeno causata dall'aumento della temperatura della superficie esterna, sia per il raffreddamento delle diverse parti del velivolo che per la produzione di energia elettrica a bordo, necessaria per l'alimentazione di tutti i sistemi. La scelta di non utilizzare carburanti convenzionali consente inoltre di ridurre sensibilmente gli agenti inquinanti prodotti dalla combustione, nonché di azzerare le emissioni di CO2, proponendo un modello avanzato e sostenibile per l'aviazione civile del futuro.